Oggi sono calato di ben 200 trofei però sono arrivato a 9.000 monete e guarda 687 goblin voglio arrivare a potenziarlo a livelli 10 anche in goblin adesso andiamo a fare una battaglia e voglio fare adesso sono i pokemon visto minecraft adesso io invece direttamente un piccone e distruggolatore col piccone di diamante da pietra da pietrisco si evolve in pietra attenzione aspetta ragazzi fermi tutti intanto guarda che qua c'è un ballo crash royale dai uccide il gigante prima che il malo ti faccia fuori perfetto gg 7 blowjob thing c'è ma 7 non va bene non va bene averlo contro ma questo è il tech è il tech dell'apocalisse quindi quindi vinto però più che vincere mi interessa vincere e buttare giù lo sono anch'io voglio vincere e due corone per così apro il deck dell'apocalisse grandissimo tappa la strega si è andato giù la torre guarda che bello guarda 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 mamma sono bravo sto vincendo mamma sto vincendo aspetta aspetta qua cosa faccio adesso gli sgari al 9 non sono male però stai attento ma no vanno giù l'astanza velocemente coglioni perfetto 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 gg taylor gg adesso lui ha mago gigante royal aspetta 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 che adesso metto che lui mette il gigante royal adesso perfetto e con la strada uccidete col mago perfetto adesso il gigante il gigante royal perché è un gigante royal la strega uccide il tuo parola bravissima bravissima la strega è stato un'altra parte verso perché lui adesso per difendere a cobring non so ieri in tre scaricini con il live in peccan il mio 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 peccan morto per fare quei tre stupidi muoio e oh cazzo e già e già e già si ma lui lui deve difendersi anche ricordati il mio peccan si difende adesso no eh si eh si eh mi ha zappato lui mi ha zappato lui mi ha zappato lui strega si Estrattore o bastardo eh muori qualsiasi cosa tu sia muori muori frecce, frecce metto a venire l'evo bene mai goblin scarica za c'è del lavoro di coltello da fare Opla! 17 secondi, devo di resistere a 17 secondi, eh. 17... Grazie. Cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Non è riuscito a dare neanche un colpo. 5. Mastino di qua, lo sganciamo subito. Ok. Ok, ce la faccio. Ho vinto. Il deck, il deck dell'Apocalisse. Perfetto, ragazzi. E ho fatto solo una corona, però. Che devo fare? Ah, ho vinto un po' della corona. Grazie. E adesso devo vincere la seconda corona, Allora, perché altrimenti... Altrimenti, il deck dell'Apocalisse non sarebbe... Questo è un livello 9. Questo è un livello 9. Questo è un livello 9, quindi. Aspetta, aspetta. Meglio del 10, intendevo. Ah. Allora, mettiamo Mastino. Lui schiera subito l'estrattore. Ok, ma all'inizio... Un estrattore solo. Mettiamo la strega, comanda color. Dai, eh. Che truppa avrà? Che truppa avrà? La strega, eh. Un'arma che ti piace. Ah, la strega per difendersi. Un'arma che ti piace. Non andare di giocco. Noi mi piace. Per l saves me, per dubbio... development lo deve da fare. Zamme, è perfetto. Ha messo la Valkyrie. Brut bastardo. Jernições da come un dagger bonaerino. La strega e la Valkyrie. Esatto. Che bene, no? Proprio sono contento. Sono veramente... Siamo indirizzando bene. Sono veramente un popico veramente. Un tempo il... I barbari qui. Così mi uccidano il... Il barbari. Il dommatore." �km featuring. muori strega muori niente è forte la strega è forte hai visto è forte adesso guarda che roba tu adesso devo devo perdere metto anche l'estratore aspetta un attimo devo avere 5 per mettere l'estratore perché altrimenti se mi attacca non so non ho nulla per difendermi però la valchiria ha visto che mi ha difeso con la valchiria io attaccherei con l'estratore di farlo si ferma realizzato tutti bastardi infami e niente mi fa giù la torre ragazzi poi adesso vedendo le truppe per attaccare quindi me qui alla valgine dobbiamo mettere il draghetto non ha gli sgarri non ha gli sgarri non ha gli sgarri mettiamo il draghetto esatto speriamo che troppo non muore non muore è troppo forte dai ce la puoi fare e cazzo freccia niente dai sgarri dai accoltellate goblin andate niente zappa zappa tutto oppa un colpo un altro colpo culo strega devo ripararmi ripararmi il buco del beretano ok così strega strega sulla strega 29 secondi dai cazzo dammi il mastino ok il mastino c'è il mastino c'è il mastino arrivò il mastino c'è arrivò un balbaccio ci portò distrugge tutto quello che c'è 157 secondi non ce la faccio non ce la faccio perché ha messo la valfuria frecce dai 54 9 di vita si si all'ultimo all'ultimo si però è dura qua molto dura così le truppe si distraggono un po' lì strega a difendere strega a difendere goblin stop mio dio arciderbolina bio parco bio parco attenzione 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 ok ho difeso bene 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 più che altro la voglio pareggiare a sto punto perché vincere non ce ne parla neanche no non ce la fai perché vado tutto giù adesso metto un po' ora mettiamo l'estratore così quando arriva adesso metterlo grazie è zappo è zappo quelli adesso metto metto un po' che culo sono sopra centrale certo vabbè c'è è buo ma c'è è buo no bomba 5 secondi no no non ci credo si scontro terminato mi sono salvato con 31 di vita ragazzi scontro terminato aspetta che lo fai nella fagina ah che culo che culo abbiamo il paolo oddio abbiamo il paolo della corona vai ha paolo della corona oro argento e mirra incenso scritta del fuoco muo martaio ma mi pecca di carta epica si lo posso potenziare lo usi? no vediamo quanto costa non potenziarlo solo quanto costa voglio vedere dove cazzo sta il pecca è poco no beh allora ragazzi se vi è piaciuto lasciate tanti mi piace perché io parezzo all'ultimo ciao a tutti e al prossimo video